durante i lavori di consolidamento e di restauro dell'abbazia di san magno effettuati nel 2006 sono state rinvenute le vestigia di una chiesa medievale di questa struttura situata a un livello inferiore rispetto alla chiesa rinascimentale sono ancora riconoscibili l'abside e parte del transetto le indagini archeologiche hanno rivelato che questo edificio di culto venne realizzato su un sepolcreto alto medievale che a sua volta si era insediato su precedenti strutture di epoca romana risalente al terzo secondo secolo avanti cristo la decorazione pittorica della chiesa risale in gran parte al dodicesimo secolo ed è caratterizzata da una complessa stratificazione di intonaci dipinti gli studi ancora in corso hanno confermato che negli affreschi sono rappresentate scene di vita e alcuni miracoli di san benedetto da norcia padre del monachesimo occidentale autore della regola e fondatore dell'abbazia di monte cassino grazie a tutti Grazie a tutti.